Fabio Quilini, buongiorno. Lo sappiamo, la settimana scorsa è stato rieletto presidente del Movimento Civico Italia del Rispetto. Prosegue quindi un percorso che è nato da qualche tempo e che è nato da quale tipo di esigenza? Buongiorno a voi. Nel 2013 io uscivo da un percorso che era durato circa 20 anni di interiorizzazione, quindi un'attività legata all'ascolto dell'interiorità e dei rapporti umani. Ad un certo punto, riflettendo con me stesso, mi sono reso conto che da un punto di vista politico e quindi da un punto di vista sociale nel rapporto tra la politica e il cittadino, c'era un qualche cosa che non andava e secondo me che cos'è che non va? Non va l'atteggiamento dell'uomo politico che ha creato una distanza nei confronti del cittadino. Quindi su quella base di mia sensazione mi sono detto qual è la mia esigenza? La mia esigenza è quella di cercare di portare un'esperienza nuova ed è un'esperienza che vuole unire il rapporto tra l'istituzione, il politico e il cittadino. Ed è per questo che ho dato il nome del movimento civico Il Rispetto, perché credo che Il Rispetto contempli il rispetto per se stessi e il rispetto per gli altri. Quindi il rispetto di essere un sindaco e un rispetto verso il cittadino, il rispetto di essere un cittadino rispetto il sindaco. Lei pensa che i cittadini abbiano recepito questo suo messaggio? Perché non voglio ricordare tempi bui, però lo scorso anno, insomma, alle elezioni comunali, lei tra tutti i votati fu il penultimo, ottenne 246 preferenze e peggio di lei fece soltanto Antonia Tabottini con l'altra voghera sinistra. Cosa crede che non sia stato percepito lo scorso anno dei cittadini e pensa che nel corso di questo anno sia cambiato qualcosa? Io penso che ogni situazione nuova all'interno della storia della vita, e quindi non voglio dire idealismo o forse cambiamento, è sempre difficile. Quindi l'anno scorso, quando ho letto i nostri 250-300 voti, io ero molto contento, perché in realtà me ne aspettavo molto molto meno. Perché sono consapevole che questo tipo di messaggio, che io ritengo un messaggio nuovo, abbia bisogno di tempo e abbia bisogno di consapevolezza. Io quando sono partito, sono partito da solo, con questa idea in testa, e non ho assolutamente l'obiettivo di mirare a dei posti e a delle poltrone. Il mio obiettivo è semplicemente quello che l'idea che ha appunto il nome l'Italia rispetto possa nel tempo essere un'identità, prendere forma all'interno della società vogherese e magari anche oltre. Questo è il mio obiettivo. La sua presenza sui media è molto massiccia a livello locale. Qualcuno l'accusa anche di essere troppo presente rispetto a quelli che poi sono i voti che ha effettivamente preso le elezioni e quindi a quella che è poi l'importanza a livello politico nella nostra città del suo movimento. Come mai la scelta di essere così fortemente legato ai media locali non pensa che possa risultare un po' ridondante? Parto dal fatto che il movimento, e in primis io, non abbiamo alcuna possibilità economica. Di conseguenza ho sempre rispettato tantissimo i vari direttori dei vari giornali e delle varie televisioni perché credo che loro possano essere un collante importante tra l'istituzione e il cittadino. Quindi io che cosa faccio? Vado all'interno della città ad ascoltare il cittadino. Il cittadino mi dice dei disagi e io cerco di portare questi disagi alle istituzioni e non posso farlo da solo. Lo faccio attraverso i giornali e le televisioni. Se i vari direttori mi danno questa possibilità probabilmente è perché il mio comportamento nei loro confronti e per gli argomenti che io porto hanno un senso. Sì, perché poi insomma alla fine si parla sempre di problematiche che riguardano i cittadini. Italia del Rispetto quindi prosegue il suo cammino. Quali pensa che saranno le maggiori difficoltà in futuro e che tipo di obiettivo si pone proprio da qui alle prossime elezioni? Mettiamola così. Il nostro obiettivo diciamo che se dobbiamo materializzarlo e farlo diventare concreto oltre all'idea è semplicemente quello di riuscire ad entrare in Consiglio Comunale quindi portare la nostra identità in Consiglio Comunale. Sono consapevole che questo percorso sarà assolutamente in salita sarà difficilissimo magari non basterà neanche la mia esistenza quando magari sarà giunto il mio momento l'Italia Rispetto starà ancora combattendo insieme ai direttori dei giornali e non sarà ancora in Consiglio Comunale. Ma magari qualcuno porterà avanti questa idea a me è importante questo che qualcuno, l'importante è che questa cosa vada come vaga e rimanga nel tempo. Questo è il mio obiettivo. Il nostro obiettivo è il nostro obiettivo